Wrap up del mese di aprile Ma che del mese di aprile? Entiamo in aprile Ciao ragazzi e bentornati sul canale Dunque finisce il mese Ciò significa wrap up del mese di marzo Innanzitutto volevo augurarvi buona Pasqua Visto che il video lo faccio uscire proprio a Pasqua Così almeno se non sapete cosa fare Dopo che vi siete invociati di tribo E siete svenuti sul divano Potete vedere questo video E poi vi dirò altre cose No vabbè vi dico ora cosa vi devo dire Perché se no poi non arrivate a fine video E vi perdete questa cosa importante Allora vi volevo dire che Da aprile posterò due video a settimana Uno di domenica e uno di mercoledì Anche perché devo recuperare le recensioni Vi devo ancora parlare quelle dello scorso mese E quindi due giorni Registerò tutti i video recensioni E uno o due giorni Molto probabilmente li dovrò ammontare Però grazie al cielo mio marito Stare a casa tutto il mese di aprile E quindi riuscirò a postare Ho calcolato fino a metà maggio per ora Due video a settimana E un'altra cosa che vi volevo dire Sto rivoluzionando la casa E fra poco Dovrò fare un po' Un decluttering dei libri Quindi Quelli un pochino più datati Penso di portarli alla biblioteca Della città Quelli un pochino più vecchiotti Però quelli dell'ultima uscita Che magari ho letto E che mi sono state più che altro Regalate da casi editrici Li vorrei regalare a qualcuno Che è interessato Quindi ho pensato Un pensato Ho pensato E ho deciso di fare Dei giveaway Che vi faranno Vi verranno fatti Insomma vi farò vedere Su Instagram Quindi se siete interessati Magari a dei libri De ultime uscite Piano pianino Vi farò vedere Penso di fare un giveaway Una volta Al mese Due volte al mese Devo ancora vedere Un attimino Perché ho tante cose Da fare E oltretutto su Instagram Poi vedrete anche I gruppi di lettura Che organizzo mese e mese Quindi nel caso Andate lì E così almeno Vi tenete aggiornati Però come sempre Vi ricordo di mettere Mi piace al video Di iscrivervi al canale Di commentare se vi va E se a fine video Vorrete acquistare Uno dei libri Che vi faccio vedere Qui sotto trovate Il link di affiliazione Per Amazon E un altro link Dove sto mettendo Tutti i libri Che sto leggendo E che mi stanno piacendo Naturalmente Anche se ultimamente Stanno piacendo tutti Divisi per categoria Quindi se non sapete Cosa leggere Potete andare a spulciare lì Dunque sono tornata A leggere cartaceo Ho letto Cinque libri Di cui appunto Tre cartacei E due In ebook E ora Vi dico Tutto Cinque libri Mi ritengo Molto molto soddisfatta E come sempre Sapete insomma Che ci sono Bambine piccole Ed ecco dire Casa Acquistare dietro Una casa Che si sta rivoluzionando Non vi faccio vedere Dietro lo schermo Cosa c'è qui Meglio di no Comunque il mese è partito Con tre Non collaborazioni Ho ricevuto questi libri Dalle case editrici Gifted Incuriosita Ho letto le trame E li ho letti Allora ho iniziato Con questo della Salani Ci volevamo noi Chi è che era convinto Che fosse Un autoconclusivo In realtà È una trilogia Ecco L'ho scoperto Prima di alla fine E niente Se vi è piaciuto Kiss me like you love me O better Secondo me Vi piacerà anche questo Anche se qui C'è molto Slow 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 burn Molto slow Quindi Allora poi Tra l'altro Non si possono vedere Già proprio No Infatti si vede Che è proprio un primo Cioè io sono curiosa Di vedere il secondo Però mi è piaciuto tantissimo Se vi piacciono I romance Con i bad guy Qui ce n'è uno Proprio bad 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 Poi Dalla giunta Mi sono arrivati Due libri Ovvero Catfish Rolling Mi è stato presentato Come un fantasy Ambientato in Giappone E io Già L'ho detto Top Perfetto Fantasy mi piace Giappone Non ne parliamo Cioè nel senso Ci ho fatto il viaggio di notte Mi sono innamorata Poi L'ho visto Proprio come il libro E ragazzi Come estetica Era stupendo Me lo sono letta E vi devo dire Che mi ha anche stupito Perché sinceramente Pensavo che fosse un fantasy Più Leggero Più per Ragazzi Non bambini Però più per ragazzi Però l'ho trovato bello Non complicato Perché complicato E' un po' discriminatorio Complesso Ecco Quindi Una piacevole sorpresa E poi appunto Sempre giunti Inaspettatamente In realtà Mi è venuto questo Perché non mi era stato comunicato E qui trovate Retelling Di orgoglio E pregiudizio Subbolo Subbolo L'ho dovuto leggere E io qui Non riuscivo proprio A staccarmi Dalle pagine E' proprio Un retelling Di orgoglio E pregiudizio Però Cioè Se in orgoglio E pregiudizio C'era lei Con la famiglia E lui Quello orgoglioso Così Qui invece E lei E lui Con la famiglia Insomma Vabbè Ve ne parlerò meglio Comunque Mi è piaciuto tantissimo Appunto Non riuscivo A staccarmi Dalle pagine E l'ho letto In pochissimo tempo Anche se Comunque erano Più di 500 pagine Quindi Molto molto carino E poi E' uscito Il terzo di Deviant E come non potevo Io lo leggere Subito Cioè Tipo Appena uscito Me lo sono subito Presa In ebook Anche perché E' un bel mattoncino Di più di 700 pagine E sinceramente Adoro il cartaceo Mi piace tantissimo Avere questa libreria Però Mi torna Meglio sinceramente In ebook Delle volte E quindi Niente Me lo sono presa In ebook L'ho divorato E' una cosa Impressionante Non do 5 stelle Molto facilmente Ai libri Perché devono Piacermi Veramente Veramente Tanto Ci devono essere Tanti elementi Per farmele dare E io L'ho dato A Deviant 3 Quindi Vi parlerò Presto Di tutta La trilogia E infine Per il gruppo Di lettura Di marzo Che io ogni mese Cerco di organizzare Dei gruppi Di lettura Ho organizzato Un gruppo Di lettura Su The Bridge Kingdom Che era Un fantasy romance Che io volevo leggere Da molto tempo Però Non lo so Rimandavo Rimandavo sempre E poi comunque Non è semplice Organizzare un gruppo Di lettura Scegliere più che altro Il libro Visto che comunque Nel gruppo di lettura Del mese prima L'avevo organizzato Su Fort Wings Ed ero sola Con me stessa Praticamente Però Ho trovato Di compagni di lettura L'abbiamo letto Ed è il primo Di una Dilugia 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 Vabbè E ci è piaciuto Tanti tantissimo Di romance Ce ne Ma ce ne potrebbe essere Di più Sinceramente Vi parlo anche di questo Mi è piaciuto anche questo E niente ragazzi Mese Di tante novità Sinceramente Cambio un pochino Di cose di casa Svuoto un po' Le librerie Ci sono cose In ballo E Sono veramente Molto contenta Le bimbe Continuano a farmi leggere Perché comunque Cinque libri Sono abbastanza In realtà Ne avevo iniziato Un sesto La scorsa settimana Di domenica Ma lunedì Mi è venuto 38 e mezzo Di febbre Quindi sono Stata rallentata E tra l'altro Ci ho avuto una settimana Veramente pienissima Di appuntamenti E quindi Non ho potuto Non ho potuto leggere Questo libro Ma ve lo ritroverete Nel wrap up Del mese prossimo E tra l'altro E tra l'altro appunto Già che ci siamo In questo video Volevo introdurre Un po' Anche Una TBR Solitamente Non li faccio Però Ecco Almeno qualche libro Al 99% So che lo leggerò Al prossimo mese Quindi Io vi dico Che il prossimo mese Penso di leggere The love post The love post Della scena Che è quello che Ho iniziato E tipo sono al 10% E ormai lo voglio Insomma Lo voglio leggere Poi ho organizzato Un gruppo di lettura Per questo mese Che riguarda La figlia delle tenebre È una delle ultime uscite Il primo di una trilogia Fantasy Romance Enemy Slover E anche Love Triangle È il primo di una trilogia Appunto Io mi sono già segnata tutto Lo state scoprendo In anteprima Perché devo ancora Annunciarlo su Instagram Però ecco appunto Se volete sapere Varie tappe E quant'altro Trovate lì Quindi comunque Questo lo leggerò Però Una tappa Si protrae Anche nel mese Nella prima settimana Di maggio Quindi Molto probabilmente Non sarà nel prossimo Wrap up A meno che Che non mi prenda Tantissimo E funglie Alcune tappe E altro libro Che sicuramente Leggerò al prossimo mese È A Light in the Frame Ovvero Il secondo Della saga Prequel Di sangue e cenere Quindi Mi è arrivato Da Lifer Collins Un mattoncino Di più di 700 pagine Però Lo leggiamo assolutamente Perché vogliamo tornare Da Nictus Assolutamente Quindi questi sono I libri Che voglio leggere La mia TBA Diciamo provvisoria Anche perché Sicuramente Poi ci aggiungerò Qualcos'altro E sono molto indecisa Sinceramente Su cosa Avevo una mezza idea Di iniziarmi a leggere Il libro della Barba Gallo Lui vuole tutto Che anche quelli Sono due libri O se no Ero anche molto Intenzionata A leggere il secondo Di Twisted Love Ovvero Twisted Game Se non sbaglio Anche se il primo Non mi aveva entusiasmato Però al secondo Mi dicono Dai vari social Che è molto meglio Rispetto al primo E se no Comunque ragazzi Qui ne esce Cioè Escono così Annunci Di libri Ogni due per tre Quindi magari C'è la mia TBR Verrà Stavolta Però no Questi tre Sicuramente Li leggerò Poi niente Ci vediamo Nel wrap up Del prossimo mese Scoprirete Cosa avrò letto A meno che appunto Non mi seguiate Sugli altri social Dove Dove vi faccio vedere Diciamo un pochino In tempo reale Cosa sto leggendo E niente ragazzi Questi sono i libri Che ho letto La TBR Che d'ora in avanti Insomma vi faccio Un pochino sapere Cosa leggo prossimamente Se ne ho qualche idea E nulla Fatemi sapere Quanti libri avete letto voi Cosa volete leggere Prossimamente Nei prossimi Nei prossimi giorni Nei prossimi Nel prossimo mese Insomma Io vi ricordo Che qui sotto Trovate i link Per gli altri miei profili social Io vi mando un bacio E ciao a tutti